Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo video di Sonic Tapes Shin Sonic, oggi andremo a mangiarcelo, avete capito bene? State a vedere che cosa succederà in queste animazioni E Sonic Tapes, credo che si voglia mangiare Charlie the Stick Questo mashup di personaggi ci piace molto Voi intanto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e commentate con... Sonic sei orrendo Voleva picchiare, quel piccolo uccellino Si è rotta una mano Vola piccolo, vola! Prima che questo ti faccia fuori Si vuole mangiare letteralmente tutto Insetti, uccellini Secondo me si vuole mangiare anche Gregory e Red Non è che vogliono combattere subito? Dobbiamo scoprire insieme quale cibo verrà creato con Sonic Shin Che tra l'altro è gigantesco, chissà se si trasformerà anche in Super Sonic Tra l'altro sul mio canale YouTube ho fatto la skin di Super Sonic Se ve la siete persa Andatelo a vedere il video poi TNT Come sempre Gregory tira fuori le sue armi migliori Forchettone, TNT, cappellino volante e bazooka Sta sputando gli anelli dorati E si sta strappando le spine dalla schiena, avete visto? Gli spunzoni d'arriccio Sono pericolosissimi Meno male che Gregory al mega bazooka Sta per morire Lasciate mi piace veloci Sta per morire, aiutate Gregory Colpo finale del forchettone E Gregory ha vinto Adesso devo scoprire cosa mangeranno Gli anelli Gli spunzoni Sembra che qui tutti stiano assaporando, assaporando e assaporando Le spine di Sonic Shin E sembrano anche buone Cosa ci faranno? Delle patatine? Catturato L'hanno piantato in terra come se fosse Con delle radici Lo annaffiano Ma non era un riccio Non è mica una pianta Friggono Non mi dite che stanno per fare dei nachos Stanno Li stanno salando quelle sale? Mi è venuta fame Voglio un pacchetto di nachos Immediatamente Sonic Nachos Cheaps Shin Sonic Nachos Non vedo l'ora di vedere la pubblicità E di mangiarle Il camion parte Anche questa volta Chica potrebbe fare indigestione Di cibo C'è Knuckles Le assaggerà? Stai mangiando Sonic amico Diteglielo nei commenti Knuckles Stai mangiando Sonic Magari non lo sa C'è anche Quel maledetto Baffone Knuckles Forse ne ha mangiate troppe Ecco Chica Stiamo a vedere cosa fa Gliele vuole rubare Di nascosto Mentre lui è di schiena Avete visto? Che faccia è mai questa? Non mangiatene troppe Potreste diventare Esattamente così Volete diventare così? Non credo 2 dollari e 70 Le voglio Ma adesso andiamoci a vedere Un'altra storia Vediamo se c'è Sonic Tapes Se c'è Sonic Shin E che cosa farà? Captain Fiddles Hai preso un colpo Da bambalina Devi stare al tuo posto Guardiamo i partecipanti della corsa Ci sono Tails Sonic E Knuckles Fate il tipo per loro nei commenti Forza Il primo posto Anelli dorati Il secondo I Nuggets Sono i Nuggets che hanno sfidato Su Friday Night Funkin Il nostro amico Twiddle Finger E il terzo posto Un cappello Con le orecchie Che se premi le zampette Del coniglio Si muovono Siamo pronti a partire Sparano Tails Sei rimasto un po' indietro Vince Sonic Con Knuckles Scrivetelo nei commenti Vediamo chi azzecca Sonic con Knuckles Sonic con Knuckles Sonic Oppure Knuckles Forse vuole arrivare Secondo Vuole arrivare secondo Ragazzi Non vuole arrivare primo Lui vuole vincere I Nuggets Oh no È arrivato Tails a massima velocità Ora li Li sciula Li ruba Quei Nuggets La linea dell'arrivo È proprio Là davanti Ha vinto Knuckles Il secondo posto O Sonic No Non ci posso credere Nessuno Di loro È rimasto Soddisfatto Tranne Tails Lui è soddisfattissimo Ma guardate un po' Le creazioni Oggi vi porto a vedere Delle cose Meravigliose Infatti Il nostro creatore Di action figure Preferito Guardate che cosa ha creato Con la plastilina Il pongo Che cos'è? Ditemelo voi nei commenti Un Sonic Shigosauro Un Rexosauro Un Sonicosauro Passo passo Ha fatto prima Tutto lo scheletro E L'ha ricoperto Di stagnola E poi guardate Sta modellando tutto Sembra veramente Meraviglioso Guardate Ha fatto anche tutti i dentini E li ha messi Uno per uno Uno alla volta Chissà quanto ci ha messo Ed eccolo qui Bello pronto Sulla sua galleria Che vuole divorare tutti Sonic T-Rex Non l'avevo mai visto È la prima volta Ma devo dire che mi piace molto E a voi? Ma non abbiamo solo Sonic T-Rex Abbiamo anche Shin Sonic Nella versione Zoukosis Eccolo È enorme Spaventoso Sì mi conviene Run Fuggire Scappare Correre via Guardate quanti denti ha Questa è la versione di Sonic Che è stata Mutata Da Quei mostri orribili Di Zoukosis Che tipo Zoonomali Ma peggio ancora Guardate Li spiaccica Li fa esplodere Fate conto Che tutti questi movimenti Tutte queste animazioni Sono fatte Spostando Tutte le parti Del pongo E guardate Com'è lo scheletro La parte interna Di questo meraviglioso Sonic Shin Versione Zoukosis Meraviglioso Vero? Anche questo è stato Modellato Pezzettino Per pezzettino E la parte più interessante È la bocca Guardatela Penso che anche in questo caso Mettere tutti i denti Sia stata un'impresa Magistrale E anche bella lunga Guardate quanti sono Wow Sta per essere Quasi completato Ed eccolo qui In tutta la sua Spaventosità È veramente Bellissimo Lo vorrei sul mio comodino Sicuramente i gatti Me lo farebbero cadere in terra Distruggendolo Ma le creazioni bellissime Di Sonic Shin Non sono finite Perché abbiamo il libro Ragazzi È ciò che aspettavo Più di qualsiasi altra cosa Andiamo a esplorare insieme E ricordiamoci Che è totalmente Fatto a mano Ogni singola parte È fatta di carta E mi sa che Sonic Shin Sta per avere Che cosa È il virus È il parassita Quello è il parassita Di Zoukosis Mi è entrato nella testa Twiddlefinger Cos'è il McDonald Di Sonic Quello Ci voglio andare Anch'io Non mi dite Che sta per ordinare Da mangiare E Sonic È alla cassa Quanto sarebbe bello Entrare al McDonald E come cassiere Avere Sonic C'è il sogno Di ognuno di noi Ragazzi Vero? Ditemelo nei commenti Eccolo Il parassita Come se fosse Un labirinto Dentro il cervello Il corpo di Sonic Sta per aggredirlo E trasformarlo In un mostro Di Zoukosis Ha preso il cervello E adesso deve prendere Lo stomaco E anche il cuore E lì c'è anche L'intestino Sta cercando la strada Giusta Vedete? In questo gigantesco Labirinto Ha preso tutto Manca solo il cuore Spammate dei cuori Nei commenti Veloci Dobbiamo aiutare Dobbiamo aiutare Il povero Sonic Guardatelo Sembra Venom Conoscete Venom Vero? Ed eccolo Si è ufficialmente Trasformato in un mostro E ora vorrà Mangiarsi gli uccellini Le colcinelle E qualsiasi altra cosa Vedete? Sta cercando Di buttarli a terra Colpendoli con un sasso Ha spaccato La povera cucinella Robot E dentro che c'è Un maialino Si mangia anche lui E ovviamente Adesso va a cucinare E a portare A Twiddlefinger Il menù Oh mio Dio Che faccia Che ha Ha il suo stomaco? Col cavolo Che gli serve A Twiddlefinger Se li mangia lui Potete riprovare Anche voi A casa vostra A ricreare Appunto questo Sonic Sheen Di carta Che cosa Che cosa sto vedendo? Quello è il suo Di dietro? Non so se voglio Vedere questa scena Forse Forse sarebbe meglio Chiudere gli occhi Ragazzi Quindi sta Per cuocere cose Che gli sono uscite Dal di dietro Twiddlefinger Dovrebbe saperlo Avvertitelo Mi raccomando Scrivete nei commenti Twiddlefinger Non mangiare Sta roba Che questo poverino Adesso Non lo so Cioè Gli serve queste cose? Sono palline? Perché Da dentro la bocca Ha staccato La testa Tails Oh mio Dio Si è trasformato Anche lui In un mostro Di zocosis Si stanno trasformando Letteralmente tutti Oh mio Dio Hanno triturato La testa Di Tails E ci hanno fatto Delle patatine Non è una bella scena Per niente E adesso Twiddle Mi sa che stai Per mangiare cose Ripilanti Ero super convinta Che sarebbe stato lui A mangiare queste cose E invece Sonic Shin Si è mangiato Anche Twiddlefinger Non lo sto capendo Ci ha fatto il ketchup Quindi è lui Il mister baffone Che si gode Questo pranzo Stiamo squartando Perfino lui Inizio a non capire Che cosa stia succedendo Che cos'è questa roba Bisogna togliergliela C'è qualcosa là dentro Dentro di lui Cos'è? Ce n'è più di uno Che cosa sono? Inizio a spaventarmi Rimettiamo tutto al suo posto Così Alla bene e meglio Pigiando con le dita Ok Facci un po' vedere Sono uova Eggman Ha dentro di sé Delle uova Torna Eh se no Non si chiamava Eggman Che cosa stiamo Per andare a fare? Ha fritto tutto insieme Che roba è? Una bevanda? Una bevanda fritta? Non penso che faccia Tanto bene È tipo un bubble tea Ma il bubble tea Mica si frigge Abbiamo il McDonald's Di Shinsonic Guardiamo che cosa c'è Dentro al menu Questi sono i gadget Le patatine di Tails Oh mio dio Beh C'è un sacco di roba Qua dentro Voglio i McNuggets Ci sono? Questa è una specie Di bubble tea È tutto bellissimo Mi sta aprendo Vediamo Quelli sembrano I capelli di Sonic È un panino Componibile Un panino Caramelloso Stupendo E le patatine E le patatine Anti stress Guardate come si possono Tutte belle spiaccicare Qui c'è da tagliare C'è scritto taglia qua Sopra le linee Noi tagliamo E c'è il ketchup Questo ketchup Questo ketchup è stato fatto Con il corpo di Twiddle Condolianze Rip Twiddle Scrivetelo anche voi Nei commenti Rip Povero Twiddle Mi dispiace E abbiamo anche La nostra bevanda Perfetto Meglio di così Beh voi fatemi sapere Qua sotto nei commenti Se questo menù Del McDonald Di Shin Sonic Vi è piaciuto Apriamoci anche Questa scatolina Così carina Che cosa c'è dentro Oh mio dio È spaventoso Ed è tutto fatto Con la carta Se riprovate anche voi A fare qualcosa Con la carta Mi raccomando Qua sotto in descrizione C'è il link Per il mio Instagram Mandatemi tutte le foto Delle vostre creazioni Che non vedo l'ora Di vedere tutto È una specie Di contenitore Ho digerito? Se li hai mangiati? Beh questo è il menù Di Shin Sonic Del McDonald E noi ci vedremo Nel prossimo video Ciao